Ciao a tutti! Oggi prepareremo le trofie al pesto. Gli ingredienti sono basilico, pecorino, parmigiano, olio, sale, aglio, pinoli, pasta fresca tipo trofie e acqua. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale il pecorino e il parmigiano. Chiudiamo. 15 secondi, velocità 10. Vediamo adesso l'aglio e i pinoli. Chiudiamo. 10 secondi, velocità 10. Andiamo a mettere adesso il basilico. Il sale e l'olio. Chiudiamo. E andiamo a mescolare per 30 secondi a velocità 7, spatolando. Il nostro pesto è pronto. Andiamolo a mettere in una ciotolina. Senza lavare il boccale andiamo a mettere l'acqua. Per far bollire l'acqua occorrono 7 minuti. 100 gradi. Velocità 1. Adesso aggiungiamo il sale e la pasta. Come tempo è il tempo indicato sulla confezione. Nel nostro caso è 7 minuti. 100 gradi. Antiorario. Velocità 1. Bene. La pasta è pronta. Andiamo a condirla con il pesto e impiattarla. Trofia al pesto. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.